Domenica 25 marzo 1905 uscì il primo numero del Corriere del Secolo, periodico politico, letterario, artistico, finanziario, di sport, moda e attualità, la cui redazione era ubicata in Via Bigli 1. In realtà il giornale era la prosecuzione di una precedente testata giornalistica denominata Reclama Ideale, che ebbe però vita effimera. Il direttore introduce il nuovo giornale specificando che è vero che la Gran Cassa è fra le più belle invenzioni che si onori l'Europa e l'America. Ma? Fra tamburare e tamburare c'è differenza. Il chiasso tira la gente, affollata che sia. Si ha la testa sulle spalle e distinguerà il galantuomo dal gabba mondo. Insomma, un secolo fa scopriamo che c'erano giornali fanfaroni attiva like seguiti da persone di dubbia cultura. Per il direttore? Il Corriere del Secolo è un giornale che pensa con la testa sua, senza sudditanza di partiti, di scuole, di chiesuole, senza riguardi a nessuno, non cancaneggiante per le piazze per ingordigia del soldo. Quanto costa abbonarsi al giornale? Sono 2,50 miserabili dirette, quelle 2,50 miserabili che senza difficoltà si possono sottrarre alle fauce di una pazza giocata all'otto. Considerando il potere d'acquisto di allora, l'abbonamento era davvero economico, essendo pari a 11 euro attuali. Questo era però il costo dell'abbonamento per chi risiedeva a Milano città, mentre nel resto del regno era di 3 lire. In prima pagina segue un articolo su una dubbia mostra d'arte, organizzata a Roma, con quadri risultanti dagli scarti di mostre precedenti, per cui? Tre quarti del pubblico che popola le sale sono formati esclusivamente dagli espositori stessi. L'altro quarto comprende i parenti, gli amici e qualche brau uomo, che è capitato lì dentro spinto da un'illusione inconcepibile o dal desiderio di scacciare l'idea persistente di suicidio, mostra in tutta la fisionomia la contrarietà di chi si accorge di aver fatto un calcolo evidentemente sbagliato. Ed effettivamente sono riportati alcuni cognomi di artisti come Berti, Galvani, Ierace, giudicati come discreti, ma dei quali non sappiamo praticamente nulla, nonostante alcune nostre sommarie ricerche. Artisti quindi che non hanno superato l'importanza locale nel corso del tempo. Contrariato dall'esposizione, l'articolista che si firma Lyon se ne va quindi al teatro lirico Costanzi, edificato 25 anni prima, dove assistette alla doppia premiera della Cabrera e del Manuel Menendez. La Cabrera è un'opera lirica di Gabriele Dupont. Fu il suo primo successo e con quest'opera vinse un concorso organizzato dalla casa editrice Sonzogno nel 1903. Un'opera verista andata in scena per la prima volta al lirico di Milano nel 1904. Anche il Manuel Menendez vinse il concorso Sonzogno. Fu pure rappresentato per la prima volta al lirico di Milano nel 1904. Si tratta di un dramma di un atto del compositore napoletano Lorenzo Filiasi. La rappresentazione ebbe molto successo. Sull'onda dell'entusiasmo il compositore scrisse altre opere che furono rappresentate alla scala, ma ebbero scarso seguito. L'articolo termina con una impressionante carellata di nobile donne. Notate soprattutto per eleganza deliziosa e per pregi personali incantevoli. Ecco far bella mostra di sé. La Contessa Taverna, Donna Franca Florio, Madonna Mayer con le figlie, la Contessa Mazzarino, Donna Laura Ruspoli, la Duchessa Visconti di Modrone e molte altre. Un mondo di illustrini che ci ricorda l'apertura della stagione della scala nel giorno di Sant'Ambrogio o i red carpet dei divi di Hollywood. A conclusione della vita mondana nella società romana non può mancare una caccia alla volpe, dove partecipò pure il marchese Luciano del Gallo di Rocca Giovine, uno dei fondatori del circolo di caccia di Roma. Caccia conclusa male, perché non fu trovata manco una volpe. In questo periodo impera ovviamente la moda parigina e tutto ciò che avviene nella capitale francese è motivo di discussione ed imitazione. Tra le varie mode c'è quella del biliardo francese. Pur esistendo una fiorente scuola italiana andava già di moda il guardare fuori confine. Alla Brasserie Toile, presso la Casa Savonelli, c'era una specie di accademia del biliardo con fior di giocatori insegnanti, Casa Savonelli in Via Dante 2, edificata nel 1891 su progetto dell'architetto Francesco Bellorini, un edificio recentissimo, capace di attivare alcune personalità del bel mondo parigino, tra cui Isidre Ribasi Puyol, catalano, che all'epoca aveva 27 anni, campione del mondo di biliardo e di fantasia per molti anni. L'accademia disponeva di biliardi della ditta americana Brucevic, storica azienda che ha recentemente compiuto ben 170 anni di attività. Un altro articolo commenta un processo evidentemente famoso che si stava svolgendo a Torino. L'autore si lamenta sarcasticamente che le udienze mancavano di sensazionalità. Non si pretendevano mica grandi cose, bastava un semplice incidente, uno schiaffo al presidente, un pugno a secchi, una sedia sulla testa del pubblico ministero, una revolverata al capo dei giurati, qualche cosa insomma, tanto per mostrare la buona volontà. Evidentemente i processi spettacolo sono antichi come un certo giornalismo. Scorriamo velocemente il giornale per apprendere che... Il corso della nostra storia parlamentare è stato attraversato da un'altra crisi, una crisi quanto mai laboriosa e gravida di commozioni. Passiamo ora in rassegna al teatro drammatico a Milano e in particolare al Lirico, al Manzoni, all'Olimpia. Il teatro Manzoni non è ovviamente quello attuale, ma si trovava nella sua sede originaria in piazza San Fedele, prima che fosse distrutta dai bombardamenti della guerra. L'Olimpia invece non esiste più. Fu aperto nel 1899, quindi all'epoca del giornale era recentissimo. Fu il primo teatro sotterraneo di Milano e prese il nome dalla presenza di baracche in cui si esibivano maghi, facchiri e sedicenti digiunatori pubblici. Teatro che ebbe l'onore di vedere la prima di due opere teatrali di Pirandello, tra cui così è se vi pare. Nel teatro recitavano Gino Cervi, Aroldo Tieri, Raimondo Vianello, Alberto Sordi e Ave Ninchi. Il Lirico. Celeberimo teatro, recentemente riaperto dopo vent'anni di lunghissimi restauri. Non era utilizzato solo per opere teatrali o musicali. Infatti, il 27 marzo si sarebbe svolta una grande accademia di scherma. Non può mancare la moda a Milano. Un lungo articolo dava consigli alle signori in procinto di partecipare alla vecchia tradizione del carnevalone milanese, che i buoni ambrosiani vollero risorta. Per le signorine si consigliano vestiti bianchi con piccoli decoltè che facevano fare dei pensieri imprudenti. Non ci dilunghiamo sugli articoli successivi, ma completiamo il video con un po' di sana pubblicità. Sartoria, camegliacci e braschi. Confezione su misura per uomo e signora. Abiti già confezionati per uomo, giovinetti, ragazzi. Impermeabili, livree per domestico. Costumi per sport. A Milano, in via Carlo Alberto, angolo via Dogana. Telefonate al 0677. Volete vedere i vostri capelli grigi tornare immediatamente al primitivo loro colore? Allora abbandonate ogni pomata. Fate solo uso della eucroma americana istantanea, oppure della colotrichia chilindris progressiva, per capelli biondo, castano o nero, preparata con metodi speciali dai primari professori chimici di Londra. Interessati? Fiondatevi immediatamente alla profumeria Grandi Antonio, in via Torino 69. Fabbrica velocipedi Vittorio Rossi. Vendita anche di accessori e pezzi di ricambio per velocipedi, macchine da cucire e maglierie, in via Manzoni 19. Poppeina! Mistura vegetale idroalcolica gemella, di meraviglioso effetto progressivo. Procura lo sviluppo o la ricostituzione del seno, anche in tarda età. Costa 5 lire a flacone, presso la premiata casa di specialità igieniche in corso Venezia 7. Attenzione però, nelle ordinazioni indicate se si desidera la quantità per lo sviluppo o quella per la ricostituzione, essendone ben diversi gli effetti. Due anni dopo l'edificio della premiata casa fu abbattuto per costruire il bel edificio Liberty di Casa Barelli, dell'architetto Cesare Mazzocchi, che ancora oggi ammiriamo. Depileno, effetto sicuro, rapido, affatto innocuo. Ricetta del dottor Burhave. Fa non solo prontamente cadere i peli, senza irritare la pelle, ma è il solo che atrofizzi completamente la radice del pelo. Un flacone costa 3 lire. Precatevi quindi alla officina chimica dell'Aquila, in via Casan Calogero 25. Non correte. La ditta non esiste più. Si trasferì poi in via Timavo 12, specializzandosi in cosmesi per poi chiudere i battenti negli anni 70. anta.